cagnacci torno a fare un video poi ne farò un altro per parlare dei capitoli dove magari mi scuderò un attimo dell'assenza vi spiego vi spiego tutto non vi preoccupate però sono qui perché ho letto una notizia che mi ha colpito su cui sto ragionando e mi interessava riuscire però a concludere il ragionamento perché sono sospeso in un limbo dico la verità però vi voglio porre il tema è uscita una notizia interessante Matt Owens che è uno degli sceneggiatori della serie tv live action di One Piece che uscirà su Netflix spero il prossimo anno adesso non ho contezza dell'uscita della data ha dichiarato che Sanji non sarà nella serie tv live action un simp quindi uno zerbino delle donne e mi sto dice e mi sto l'ho accolta e all'inizio benissimo ho detto bravi 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 questo è il lavoro che si fa su un adattamento in live action si devono togliere quelle cose che potrebbero sembrare ridicole se trasportate nella dimensione realistica che in qualche modo il live action per quanto fantasy possa essere quanti effetti speciali personaggi strani possono esserci restituisce e live action comunque un minimo di realismo no perché vedi tettore in carne e ossa ce l'ha sempre di base un minimo detto bene questo è il lavoro che va fatto giusto Sanji che fa gli occhi a cuoricino Sanji che si si prostra alle donne in quel modo che non le combatte potrebbe essere nella serie live action che avrà un pubblico ovviamente diverso in parte uguale ma in parte anche diverso di quelli che hanno seguito fino ad oggi sul manga o nell'anime quindi la mia prima impressione è stata politica dopodiché ho pensato ma qual è l'essenza del personaggio di Sanji andiamo all'essenza del personaggio sicuramente l'elemento primario che caratterizza il personaggio è adesso più che all'inizio la sua incredibile gentilezza che è stata ribadita dal padre da rufi da Sanji stesso no verso tutti la gentilezza ma anche questo suo essere cuoco e combattente cuoco con un sogno e combattente che per preservare il suo sogno e il suo essere di cuoco combatte senza le mani tutto intorno a questo e soprattutto il più grande più grande diciamo caratteristica del personaggio è questa sua amore per la cucina cucinare anche per un nemico poi magari lo massacro dopo di botte ma lui non può morire di fame non può soffrire la fame perché lui ha sofferto la fame sa che cosa vuol dire sa che nessuno deve soffrire la fame questa è una grande caratteristica di base del personaggio è un elemento che non si può togliere altrimenti Sanji diventa un semplice combattente con uno Zoro qualunque ok non per offendere Zoro in questo video ma Zoro è un personaggio molto basic che non è portatore di grandissimi valori è portatore di un sogno molto infantile ma che è molto noto nei manga quello di diventare il più forte di qualche cosa di superare qualcun altro eccetera il sogno di Rufi e Sanji sono molto interessanti come anche quello di molti altri Mugiwara sono interessanti però in questo caso il personaggio ha molte sfaccettature e forse uno dei più sfaccettati no all'interno di un manga che non caratterizza tantissimo i personaggi attraverso chissà quale esplorazione emotiva Sanji forse è uno dei pochi insieme a Rufi che l'hanno avuto questi imprenditi quindi per me sicuramente quella l'essenza però un altro punto che nel manga viene ribadito tanto è questo suo essere cresciuto all'interno di una cucina di in modo cavalleresco per quando riguarda per quando riguarda l'amore per le donne ok quindi secondo me quell'aspetto è importante però l'occhio a cuoricino questo l'ho sempre detto mi sarebbe sembrato sciocco in un live action però addirittura togliere il fatto che lui sia così simp così zerbino con le donne se viene tolto deve essere ricreato un atteggiamento che faccia comprendere che lui le donne non le tocca neanche con un dito anche nel live action secondo me deve rimanere questa dimensione di lui che piuttosto che picchiare una donna sarebbe disposta a morire secondo me è importante che ci sia questo aspetto perché caratterizza tantissimo il personaggio in un modo qualcuno potrebbe dire anche politicamente scorretto le donne non hanno bisogno di essere difese eccetera eccetera abbiamo visto come in realtà Sanji sia cresciuto dopo aver fatto quei conti col suo passato a Tottenham cioè quando lui ha fatto pace con se stesso capendo che non era colpa sua quello che era successo alla madre anzi che lui aveva messo in difficoltà la sua ciurma per prendersi tutto sulle sue spalle eccetera eccetera lui ha capito che può affidarsi ai compagni e mettere anche un po' se vogliamo a rischio le donne della sua compagnia tra tra che ci sono tra i suoi negli intervista metto wens dice una cosa sarà più seduttore immagino quando parliamo di seduttore nei manga barra anime mi viene più in mente city hunter mi viene un po' in mente lupen mi viene in mente poc'altro no che abbia a che fare con la seduzione seduttore e anche lì perché lupen ha quell'aspetto si giocherellone anche city hunter giocherellone però ci sono sempre dei momenti in cui poi le donne si innamorano di questi uomini sia di lupen che di city hunter a sanji questo aspetto è riuscito con forse in una barra due occasioni però non emerge tanto il suo esser seduttore quando più essere il suo zerbino che non tocca le donne ora io sono preoccupato da questa seduzione che avrebbe che avrebbe sanji io mi aspetto addirittura un tipo molto volgare un po grezzo gentile ma grezzo no perché in one piece nella cucina di zeff i cuochi sono tutti quanti sboccati e lui rimane sboccato non quanto brook ma rimane sboccato quindi seduttore che cosa vuol dire vuol dire che sarà un po quello che all'interno della storia porterà le donne dalla sua parte con la seduzione mi sembrerebbe una una distorsione sanji non manipola sanji non non seduce sanji si innamora è innamorato di base di tutte le donne ok a prescindere allora io spero che questa intervista sia stata semplicemente un po superficiale perché io che sono forse il più grande fan di sanji del mondo ritengo che quell'aspetto cavalleresco di non toccare la donna debba rimanere che poi non si debba non debba essere portato nel modo ridicolo come portato nel manga sono altrettanto d'accordo però attenzione questo aspetto secondo me caratterizza tanto il personaggio è veramente sanji è una formula unica nessun manga è stato creato un personaggio caratterizzato in questo modo con tutte queste pennellate diverse questo lo rende un personaggio anche difficile complicato da apprezzare perché ovviamente il sogno dell'all blue come può affascinare un giovanissimo che magari non è man della cucina come si può apprezzare oggi questo modo no di una volta soprattutto per le giovani generazioni di concepire la donna come una principessa da proteggere sembra politicamente corretto sanji è il personaggio più politicamente scorretto anche perché davanti ai trasformati no lui reagisce in un modo che oggi è vietatissimo per i canoni per lo meno dell'intrattenimento e non solo occidentale e allora io chiedo a voi perché questa riflessione non l'ho finita seppur con lo stile del seduttore non dello zerbino sanji deve conservare questo suo apprezzamento delle donne che porta che lo porta spesso a essere in difficoltà a subire il fascino femminile che mette a volte in difficoltà sia lui che ovviamente i compagni oppure nel live action trovate che sia giusto toglierlo questo aspetto di di non toccare le donne perché sinceramente io capisco che il registro debba cambiare può cambiare su tantissimi aspetti io sono il primo a dire sono il primo a dire spero che che usop non abbia il naso lungo per fare un esempio sono il primo a dire che sanji non debba avere l'occhio a cuoricino sono il primo a dire che rufi non debba avere non si debba avere il gongon ma che non debba fare alcuni colpi mosse che risulta sempre molto ridicolo come il gongon balloon uno dei più ridicoli in assoluto no state parlando con uno pronto ai cambiamenti non so se snaturare il personaggio fino a quel punto sia giusto perché comunque sì è vero che ci sarà una grossa parte di persone che non ha mai visto one piece però quella parte che one piece l'ha visto capisco non si possono accontentare tutti ma se riesce a restituire l'anima del personaggio secondo me sarebbe opportuno anche essere vittima del fascino femminile non in modo ridicolo ma in modo realistico quanti quanti uomini conoscete che sono così innamorati da abbassare il loro senso del pudore quasi no sono in un limbo ve l'ho detto questo video non va verso la conclusione vorrei sentire voi vorrei sentire voi però per cortesia se iniziate a dir san giro fa schifo eccetera eccetera il vostro parere per me è l'influente perché mi state provocando in un video dove io non vi sto provocando ok accetto la reazione quando la cerco di scatenarla non in questo caso fatemi sapere voi è Grazie a tutti.